Let's go! Non ci credo, regà! Allora ragazzi, ci troviamo qui con mates Ci troviamo qui con questo no skin Ci sei bro? Sì, bella Sei pronto a fare il video? Sei carico? Sì, sì, so carico Ah, ok, allora Te lo dico, non odiarmi Ora sto andando a fare una cosa bro Vuoi sapere cosa ho fatto? Vai nella lista amici Vai a vedere Ah ok, ho capito, ho capito Ho visto, ho visto Mi ha dato una amicizia Hai visto che non sei Allora, oggi raga mi spiace Ma sarò così cattivo bro Purtroppo sei capito da te Allora, ascoltami bro, ci sei? Adesso andremo a fare una sfida, ok? Andremo a fare una sfida Ok, ok Se tu però dovessi perderla Io bro non ti manderò più la richiesta amicizia E non saremo più amici su Epic Vabbè Vedi bro, se vuoi recuperare la mia richiesta Adesso devi vincere questa sfida Tu dimmi se sei pronto Eh vabbè Non sono molto forte, cioè Tranquillo bro, non sei troppo forte Tranquillo, non serve essere troppo forti E sarò giocartene alla minima Adesso bro andiamo in creativa Ma questa sarà la prima sfida Se tu dovessi riuscire a superare questa sfida Accederemo alla seconda Che non sai ancora qual è però, ok? Tu vieni in creativa Tu, tu, tu seguimi Tu seguimi Vuoi vedere veramente che gioco Da quando tu avevi mille o due mila iscritti Quindi tu mi seguimi Da quando avevo mille iscritti Non si crede bro Non è vero Sì, è verissimo Allora dopo andiamo a controllare Dopo andiamo a controllare Va bene bro Allora bro Guarda il tuo inventario Vedi che ti ho dato le cose in automatico Come te la cavi con Pump ed Eagle? Allora Abbastanza forte Cioè sinceramente me la cavo Perché Quando stavo nella season L'usato Ok sicuramente Sì tra gli usavi Ma allora la mia domanda di questa è Tu pensi di riuscire Non potremmo costruire Tu pensi di riuscire a battermi In questa arena difficilissima Che ho visto che usavano dei pro player? Pensi di far più kill di me? Abbiamo Quello che Quello che accade accade Allora Se sei pronto Ok Allora bro Quindi se tu riesci a sovrappare questa prima sfida Passerei alla seconda Sei pronto bro? Va bene Allora Allontaniamoci Vai allontanati da me Facciamo il primo che arriva a 5 Il primo che fa 5 kill Sei pronto? Va bene Allora Sì 2 1 Via Io te lo dico Però guarda che sto già arrivando Questa arena è molto difficile Non si può costruire Dove sei? Ecco qui Io sono abituato a costruire No Ragazzi Vabbè La prima mi ha ucciso lui 1 a 0 per lui siamo Non si può costruire bro Dove sei? Io un colpo di Vigol Cioè Tu un colpo di Vigol E muori No Ti ho ucciso 1 pari Tranquillo bro Siamo 1 pari 4 74 10 2 a 1 per te bro Ma guarda che adesso hai poca vita Vero Ragazzi questa mappa è molto difficile Perché non si può buildare Ma abbiamo i rampiti Preso No Non è bastato 3 a 2 per me bro Ah sì Se ti impegni ce la fai Siamo 3 a 2 per lui raga Perché? No vabbè Questa non la contiamo Dai Questa non vale Dai Questa non vale Va bene La cosa più divertente che ho fatto 4 a 2 Ho poca vita però ce la puoi fare Dai Ce la puoi fare Bravo hai visto? 4 a 3 Non dire così però Non sottovalutarti Non sottovalutarti Ma non è vero Dove sei? No Allora aspetta Vabbè Aspetta Aspetta Visto che tu mi hai detto Che mi segui da quando Io ai 1000 iscritti Facciamo una cosa Torna in lobby 980 dico Allora bro Facciamo una cosa Torniamo in lobby Torniamo in lobby Vieni Abbandona la partita Aspettate raga Aspettate Voglio dare un'altra possibilità Ragazzi Siccome mi spiace Che abbia perso E siccome mi hai detto Che mi seguo dai 1000 iscritti Ok Adesso bro ti darò La ultima possibilità Andiamo a fare Una delle challenge Più difficili Che esiste su fortnite Ti senti pronto? Va bene Andiamo a fare La pump challenge Andiamo a fare La pump challenge Bro Se riusciamo a vincere Questa partita Che andremo a fare Io ti manderò la richiesta Ti rimanderò la richiesta Sei pronto? Andiamo? Allora andiamo raga Ci proviamo Sto cercando di venire Vivo Vai lo porto da te Lo porto E qua 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 Dove sono io qua Guarda bro guardami Ok è sceso Lo faccio ballare Vai bro balla Uccidilo uccidilo Sta ballando Sta ballando Te lo faccio riballare 12 Bro 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 Eh bro Dove vi ucciderlo Tieni il pump Tieni il pump Bravo Arriva l'altro Ce lo puoi fare bro È scarso È scarso È scarso Bravissimo Bravissimo Salvami bro Salvami Salvami Quindi abbandoni Raga ha avuto un problema Infatti sentivo anche il suo papà Che diceva che deve andare via Poverino Deve andare via Qua c'è gente Va bene Oh cosa ho fatto GG Va bene bro Dai Allora provo a vincerla io Dai Prova a vincerla io Bella bro Se la vinci Ti provo Ti provo Ti do questo lutto mio Bro se la vinco Avrei la mia richiesta di amicizia Ok Va bene Dai va bene Ti lascio andare Dai bella Bella bro Ok allora ragazzi Ragazzi sei rimasti da soli Ragazzi devo andare via Allora ragazzi Siccome mi spiace un sacco Perché vi giuro che Era tenerissimo Ragazzi Proviamo a vincerla Ragazzi Sono in solo viduo Con solo un pompa Ragazzi Sono in solo viduo Con solo un pompa Ragazzi Questa sfida È completamente Impossibile È completamente Impossibile Ragazzi No raga No raga no 56 No raga troppa gente Oddio No raga ma come facevo qui Li stavo pure uccidendo Non ci credo Ero pure senza materiali Pure senza materiali Ragazzi Allora facciamo così Allora ragazzi Siccome vi giuro che Quel ragazzino Mi ha proprio commosso Proverò Siccome vi assicuro Che povero ragazzi C'era tipo la mamma che orlava Che diceva di andar via Basta giocare Allora raga Proverò a vincerla io per lui Ragazzi vi dico già Che sarà impossibile Ragazzi Sarà impossibile Ma io ce la devo fare Ce la devo fare per quel ragazzino Io devo farcela per quel ragazzino Ragazzi Devo assolutamente farcela Ce la faremo insieme ragazzi Ce la faremo Eccolo qui raga Non ho trovato uno qui eh Oddio quanto era scarso questo raga Uh Bell No qua non la voglio raga Mi fa schifo Ok raga allora Oh solo questa partita Per farcela Teniamo la bolle raga Perché abbiamo solo il pump Proverò a vincere raga Spero di trovare ancora gente Così scarsa raga Ma toh Quanto è adesso questo Sono qui raga Vabbè anche questo è scarsissimo Sono tutti scarsi Ma di fortuna raga Grazie per il pomporo Bra da Grazie mille per il pomporo bro Grazie mille bro Guardate quanto loot Che ci stava qui Ci saremo per il nostro ragazzo raga Oh Tranquillo bro Tranquillo Facciamo una cosa va Purtroppo gente che mi spara Andiamoci ne via Carriamo qui Carriamo il pompa Preso 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 Come entro raga Vado raga Dove sto Oddio raga Difficilissimo Non ho più vita Oddio cosa ho fatto Oddio raga Oddio Possiamo vincerla questa eh Ce ne sta uno qua raga Se lo sbaglio Wow Oddio 1v1 raga 1v1 eh Fammi caricare il pompa va Scarsissimo raga Ma io sono un pompa Saremo così Ah è tanto scarso eh Non ci credo Cos'è successo Basta ragazzi Non faccio più questo Let's go Non ci credo raga Cosa ho fatto Cosa ho fatto raga L'abbiamo fatta Let's go No vabbè No vabbè Cosa ho fatto raga Vamos baby Vamos Possiamo Oh Quando tornerò a casa Vedrà la mia richiesta di amicizia Quindi Vi manderei una richiesta Sono felice perché quando tornerà a casa Rivedrà Vedrà la mia richiesta di amicizia Quindi ragazzi Il video di oggi finisce qui Sono riuscito a superare questa challenge Potremo rimandare la richiesta di amicizia Sono felicissimo Mi raccomando Dicemi like per questo video Bibo Trattino Basta player 1 Allo shop Per supportarmi E' stata una bella sfida raga E' stata una bella sfida Ce l'ho fatta Meno male Forse un po' L'entrata di fortuna raga Che ho dovuto andare via E ho provato a farla io Che magari Io e lui insieme Non ce l'avremmo fatta Un salutone da Bibo ragazzi E fate bravi Volete diventare dei veri bibini? Allora basterà andare nello shop In basso a destra Supporto anche l'autore Basterà digitare Bibo trattino basso Player 1 E fare accetta Una volta fatto ragazzi Mi starete direttamente supportando Nello shop Con il vostro acquisto di V-Bucks E' attenti perché Ogni due settimane Ragazzi ve lo tollerà in automatico Dallo shop Quindi dovrete rimetterlo Ogni acquisto che verrà fatto Che sia skin Piccone Bagli Mimetiche Andrà direttamente a supportarmi Mi raccomando ragazzi Mandatemi la foto su Instagram Mentre shoppate con il mio codice Perché se dovessi vederla la riposterò subito E se riuscirò ragazzi Vi manderò anche la richiesta di amicizia A voi non costa niente Ma per me è molto importante Bella ragazzi